i milanini incazzati neri sono incazzati neri i milanini ma cosa speravi con fioletta con fioletta cosa volevi sperare il briga poi lì il benzinaro porca di una miseria non puntavo sulla roma per arrivare in semifinale non puntavo avrei puntato un gettone all'inizio su cosa ma torniamo sempre il discorso che faccio sempre l'allenatore ormai sono stufo di ripetere sempre l'allenatore quello è uno scarsone adesso non puoi dire che avevi infortunati questo qua non ci capisce un cazzo quel pioli lì quello lì non è un allenatore intanto prendete una barca di gol ogni partita prendete due tre gol siete scandalosi scandalosi anche lì in quella squadra lì la difesa è zero io ne salvo anche anche il mila lì io ne salvo 4 5 4 5 il resto è da 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 a rivoluzionare siete all'incirca messi come noi è tra allenatore rosa forse la rosa è un po migliore ma e lì ne avrete di fare di mercato non avete da fare la calabria chi è quelli la non sono giocatori da milan dai su quelle a o le a o quello lì e alle quello lì interessa i soldi interessa fare musica interessa la moda i marsuppi quello è quello lì ne frega un cazzo e siete andati a dargli 7 milioni come noi con rabbiò uguali stessa pasta eh siamo lì solo che rabbiò diciamo che 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 è più 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 serio è una persona più seria quello lì è un pagliaccio è un pagliaccio quello lì dai su ragazzi avete una roba io non lo so ma quelli braimovici che cazzo ha voluto fare a milan pensavo che dasse una smossa un pochettino invece proprio zero adesso così stagione fallimentare anche voi insomma con pioli avete vinto uno scudetto non sapete neanche voi come come io ho sempre detto che se non arrivava i braimovici lo scudetto col cazzo col cazzo lì è stato tutto non dico che l'abbia perso l'inter ma ma a merito di ibra diciamola così se per pioli pioli dai insomma ci va la ci va l'atalanta e la roma nelle semifinali va bene così vediamo vediamo se qualcuna quest'anno riesce a vincere quelle le coppette io dico che la conference neanche non neanche io neanche non la non la reputo una coppa quella proprio un porta ombrelli la coppa uefa diciamo che la coppa delle della della dei perdenti o la coppa della diciamo della soddisfazione minima no per però è sempre una coppa uefa insomma se la vincesse la roma o l'atalanta io spero l'atalanta perché in tutti questi anni che gasperini ha lavorato con l'atalanta di oddio sarebbe anche giusto che un trofeo gasperini tutta la sua carriera se lo porti a casa e se dovessi scegliere io sceglierei l'atalanta sceglierei l'atalanta e detto questo oggi giochiamo con il cagliari a cagliari adesso vediamo se questa sera devo tirare fuori la 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 come si dice lì la la saldatrice devo vedere dov'è devo vedere perché c'ho solo l'affare devo vedere se devo tirare fuori la saldatrice o se basteranno o se basterà un colpo un colpo di mazzetta qui un po la raspa o il seghetto vediamo vediamo stasera come 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 si cosa la 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 partita gli infortunati disponibili sono sempre quelli manca solo milic e i due fenomeni li li il il briscolaro lì e dopo in forever quindi ce li hai tutti puoi fare una partita tranquilla tanto ormai adesso abbiamo la certezza che ci sono cinque in sempre lì società mandalo via fuori dai coglioni tanto cosa ti serve ormai lele non ti serve niente io penso che i giocatori nell'ultima partita senza quell'energumeno li giocano anche meglio giocano anche meglio fanno scommettiamo che se tu lo mandi via adesso non ne perdono una non ne perdono una scommettiamo giocano da soli si arrangiano da soli li lasci in autogestione questo puoi tirartelo fuori di coglioni subito tanto ormai siamo siamo in champion league tranquilli no quindi che cazzo non mi direi mica che hai paura per il ritorno di coppa italia no ormai 2 a 0 è fatta lì lì la c'è in autogestione magari ti tieni anche il secondo di allegri in panchina ti tieni lui quell'altro lo metti lì in tribuna o fuori a spazzare il piazzale e soprattutto te lo devi tenere o se no lo sospendi lo metti nell'ultimo anello lì con con tribuna d'onore di così li fai fare anche la figura di merda prima di mandarlo fuori dalle balli che cazzo te lo tiene a fare che cazzo te lo tiene a fare ormai ormai non serve a niente più non serve a niente mandalo se lo mandi via recuperi ancora magari qualche 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 euro perché adesso quegli altri giocano in casa hanno il derby e lo perderanno perché ormai sono a picco perderanno il derby tu puoi vincere adesso magari a cagliari senza di lui a vai a tre punti magari cerchi di di beccare di nuovo il secondo posto che sono 5 milioni in più e mandati tiratelo fuori dai coglioni tiratelo fuori dai coglioni adesso così i ragazzi sono più tranquilli finiscono la stagione più tranquillamente ascolta michelone el can ascolta michelone che michelone nella vista di colori michelone non lo sopporta nessuno questo qua questo qua non lo può vedere nessuno el can ma lo vuoi capire o no tiratelo fuori dai coglioni perché con questo rischi anche la coppa italia rischi anche la coppa italia rischi anche la coppa italia tiratelo fuori dai coglioni bene ragazzi niente io vi auguro una buona una buona partita stasera vediamo se devo fare un video sfogo spaccare anch'io tutto devo incominciare a prendermi sapete quelle mazze lunghe no cominciare spaccare anch'io no vedremo dai ragazzi formazione sarà quella ovviamente 352 352 vlaovic a chiesa iniziali e dietro bremer a gatti penso e danilo sarà quella lì la formazione centrocampo i soliti tre rabbiolo catelli e becchini sulla sinistra costic e sulla destra penso metterà uea o cambiaso dovrebbe dovrebbe essere questa diciamo la formazione la formazione del cagliari non la so neanche non mi interessa perché non li conosco conosco 1 2 stasera io opto sarà un pari un pari della serie non facciamo se male un pareggio giusto per un punto per la salvezza per loro è un punto per la tranquillità per noi andrà a finirla così vedrete è così ragazzi vi lascio mi raccomando sempre iscrivetevi al canale laica campanellina un bacione a tutti i belli e brutti mandalo via quello lì così almeno finiamo e finiamo il campionato dignitosamente non serve più ormai ormai siamo in champion league non ti serve più quello lì è il can non ti serve più mandalo via hai capito ciao ragazzi bacione a tutti i belli e brutti statemi bene mi raccomando iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale mi raccomando sostenete il canale di michelone la i campanellina se qualcuno vuole abbonarsi lo sapete bene poi no uno di voi verrà premiato è scapito vostro e lo dico sempre è scapito vostro ciao ragazzi ciao ragazzi ciao milanini